Come sempre accade quando si punta un obiettivo importante, il lavoro e la fatica devono essere costanti e durissimi. Piero Brali ha blindato la squadra e continua a ritmo della doppia seduta la marcia di avvicinamento alla sfida di domenica 16. L'esordio nei play-off non si può seccare, dunque bisognerà arrivarci bene, tanto dal punto di vista fisico quanto mentale. L'allenatore bianco-verde sa bene quanto sia importante essere concentrati sull'obiettivo, senza però caricare i calciatori di pressioni e tensioni. Un lavoro complicato, certo, per cui gli verrà d'aiuto l'esperienza acquisita con un bel bagaglio di campionati vinti e partite azzeccate. In mattinata la squadra è stata divisa in due gruppi, da parte lavoro atletico e dall'altra tattica, con gli osservati speciali. Ilianes, Balai e Marco Silvestri devono essere dosati. L'argentino in particolare è una pedina preziosa ed insostituibile al netto, tra l'altro, dell'assenza ormai scontata di Luigi Silvestri. Fino a domenica si lavorerà intensamente, poi si farà una valutazione generale sullo stato di forma della squadra e si deciderà come impostare la prossima settimana di lavoro. Un passo alla volta, dunque, per raggiungere in piena forma l'obiettivo finale.